È un ricordo davvero doveroso, che può sembrare ovviamente triste perché è una commemorazione, ma dopo la vittoria di ieri abbiamo tutti quanti immaginato stamattina quale potesse essere il volto di Luigi Nicco. Oggi c'è stato il ricordo sentito, doveroso, pieno di sentimento, di un uomo napoletano vero, giornalista sportivo tra i più grandi d'Italia, archeologo, scrittore, impegnato nel sociale, contro la camorra, anche consigliere comunale, napoletano anche nel carattere, sorridente ma melanconico, disponibile ma burbero. Insomma una persona che io ho avuto modo di apprezzare chiaramente non solo come giornalista ma anche come uomo, anche quando avevamo discussioni che ci vedevano su posizioni diverse. Luigi Nicco uomo libero, ricco di umanità, napoletano doc, e così mi piace ricordarlo in generale, ma soprattutto oggi dopo la partita di ieri sera.